E ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qua su Little Nightmares 2 per un nuovo episodio assieme E chissà cosa accadrà oggi Eeeh, intanto c'è... ah ma c'è qualcosa qua Non me ne ero accorto Ma che ca... Ho visto ora Ma no, ma no, porca miseria Eh, il sistema di controllo non è che mi stia facendo impazzire eh ragazzi, siamo sinceri Non è niente di che Ok Ok Ho aperto finalmente questo Cos'è un cappello? E' un nuovo cappellino Mettiamolo Sembra quello di... di Hit Fantastico, vabbè Comunque Detto ciò Possiamo andare avanti Sento un rumore, ecco E' tornato il nostro amico Chips Mamma mia Aiuto Ok Per un pelo eh Uuuuuh Andiamo 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 Aia, aia Ammazza Sotto 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 Diciamo che da quanto ho capito questo dovrebbe essere il nemico principale del gioco Credo A primo impatto direi di sì Magari mi sbaglio eh, però Sembra che sia così La situazione Possiamo andare ora? Vediamo se riusciamo a passare Allora Che andiamo sotto Anche se fa un po' schifo l'acqua Ma ci tocca Se vogliamo sopravvivere Ehm Che fare, che fare, che fare Ma porca miseria no? Per un pelo ragazzi Non ci sono arrivato Per un pelo eh Purtroppo Ah basta andare sott'acqua Ah ma è una cazzata allora Ok 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 Fatto Non posso salire su? Sì posso Bravo Ok Ok Con calma Comunque mette un'ansia Wow C'è veramente wow Ma si è buggato Non si è buggato Ok Qua 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 Dentro la casina Ottimo La vedo complicata eh Non ti rispetto Aia Non so se sia morto Sinceramente Per me no E poi la fortuna È che fosse carica Effettivamente Da Il fucile Fucile Ok C'era un po' Dicciato In teoria Stiamo fuggendo Anche se Secondo me Mmm Non sarà facile Succederà sicuramente Qualcosa Succederà sicuramente Succederà sicuramente Che ansia Che ansia Che ansia Santo Dio Succederà sicuramente 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 Grazie a tutti. Ma che... Ma oddio... È tipo tutto stortissimo. Diciamo che, sì, ok, siamo scappati, però ci stiamo per ritrovare in un posto che non so quanto sia meglio, sinceramente, dell'altro, ecco. Quindi, insomma, forse a questo punto era meglio stato per i prima, cioè, tanto valeva. Cos'è questo... questo qui? Chi è? Una persona? Ma che... perché è sparito? Così, di brutto, cioè, è proprio sparito... Comunque, questo gioco ha dei dettagli veramente allucinanti. Mamma mia. Ha dei scenari che sono veramente tanto belli, ben fatti. Ok, siamo... qua dentro. Io non penso che sia una persona, penso che siano solo vestiti. Ma che è successo qua? Ma il macello? Ma secondo voi... Sulla sedia posso salirci? No, eh? Non è contemplato. No, no, no. Ha messo apposta i vestiti, immagino. Eh, qui mi sa che devi aiutarmi, amico. Se no, non riesco ad andarci. Grazie, gentilissimo. Il punto è tu, devi aspettare. Io non ci arrivo. Eh, come potrei arrivarci lì? Così. Beh, ora sono morto proprio ufficialmente, no. A parte tutto, ma... Come devo arrivarci? C'è lui che mi sta chiamando, ma... ma che vuole? Non riesco a buttarlo giù. Perché mi chiama? Non posso andarci ora. Ah, forse se riesco a spingerlo... Ah, ho capito, ho capito. Come non detto. Ok. Ragazzi, ci siamo. Stiamo progredendo. Che già è una buona cosa, eh? Che vuoi? Ho capito, arrivo un attimo. Mamma mia. Oh. Che ansia, che fammi... Che ansia. Dai. Sì, ho capito. Certo che se non spingo... Dai. Oh, beh. Quindi. Adesso arrivo. Sicuramente dovrò saltare. Tu mi dovrai prendere come sempre, vero? Non fa l'infame. Bravo. Qua c'è qualche cappello. Io non so cosa siano questi. Non ho ancora capito, sinceramente. Cos'è questo? Io vedo qualcosa qui. Ah, no. È il... È il sopra del sacco. È il nodo. Niente. Come non detto. Devo capire, cosa sono quelli che... Che prendo e poi si... Si smaterializzano. Non ha... Qua non c'è scritto niente. A proposito... Non lo so. Non lo so. Non lo so. Wow. Tutto molto... Felice. E tranquillo. Quello che è? Ah, ma devo entrarci? Ah, pensavo che dovevo scappare io. Di base. Vabbè. Che sei a sintonizzare? Non ho capito bene la meccanica, ma ce l'ho fatta. Va bene, va bene. L'importante è farcela. Ma perché sono dentro alla tv? Così. E sono in slow motion pazzesca? Ah, lui mi ha salvato praticamente. Mi ha tirato fuori. Immagino. Si può anche spostare? Sì. Devo spostarlo, sennò come faccio a passare dal buco? O forse devo tirarlo a me. Proviamo. Ok. Ma quello è un cappello. Cioè, posso andarci o... Sembra un cappello quello. Posso usarti? No, non è un cappello perché sennò c'andrei, cioè nel senso non mi fa andare, quindi di conseguenza immagino che non sia un cappello. Non è un cappello. Comunque, ragazzi, che figo. Comunque, ragazzi, che figo. Il cappello. «Cosa ti è un cappello?» Quale ha il suo simbolo? Perché lui guarda di là? Ha qualcosa? Cosa? No, non c'è niente. Amico mio, non c'è nulla. Perché mi dici bugie? No, comunque non c'è nulla. C'è un'altadena. Però, basta. Va bene. Perché non mi ci va? Ok, ora c'è andato. Allora, bisogna un po' di coraggio, un po' di autostima in più. Ma sto fumo? No, niente, basta. Beh, forse era migliore la luce, sinceramente. Non so voi come la pensate, ma... Di base... Forse migliore essere un po' più illuminati che è buio. Non è capo, non è capo, non è capo, non è capo. Ma io non posso dire... Ma qua sotto c'è qualcosa, secondo me. Ci deve essere qualcosa qui, dai. No? No. Boh, non capisco cosa devo fare, perché... Comunque... No, niente, non... Non saprei... Se la riaccendiamo, la luce? Ah! C'è una stanza, lì, là. Ecco. Riaccendiamo un attimo la luce. Per cortesia. Se no, qui... Divento pazzo. Eh, ma non cambia niente. Ho fatto fare un volo. Secondo me qua sotto c'è qualcosa, però... Non posso andarci. Quindi cosa... Cosa devo fare? Domanda da un miliardo di dollari e mezzo. Risposta. Non lo so. Perché sì, devo andare là, però... Ah, ma gli lancio la palla! Mi sa... Eh, mi sa che gli lancio la palla. Però la palla l'avevo messa sotto, come la riprendo? Ok, andiamo. Proviamo a fare sta cosa. Non so se sia giusta. Ma noi ci proveremo. Ah, ecco, vedi? Trovata la via d'uscita. Andiamo. Certo che... Ah... Andiamo insieme? Ma è... È una congiura? Oh, era ora. Cioè... Sembravano handicappati. Qui, qui, qui. Ok, giù con calma. E' ok. In due riusciamo, dai. Infatti. E mo'? E questo chi è adesso? Un altro fantastico nemico? Aia! Mi ha fatto male! Che bastarda. Sei rimasto malissimo, rega. E niente, io... Sono così, sono così. Sono un po' tardo. No, devo acchinarmi, comunque. Se mi chino ce la faccio. Infatti. Ok. C'è un altro... Alleato, mi sa, eh. Ma... Cioè, io lo darò di qua per forza, o...? Perché non vorrei essermi saltato... Un punto importante. Eh, che cazzo! Eh, che cazzo! Ma, allora, cos'è la congiura? Veramente, eh, fate... Ma, vabbè, tutto però basta. Cioè... Au, eh, posso passare? Mamma mia. C'era un papazzino. Maledetti! Ci vogliono uccidere! È inutile, cioè, proprio ci odiano, è una follia! Cos'è questo che io vedo muoversi? Cosa di carta, tiè. Ma no! Ma no, me l'ha rubata! Ma mia amica! Ma no! Mi sono rimasto malissimo, raga! Brutto stronzo! Un'altra volta! Cattivo, non si fa così! Un'altra parte! Niente, facciamo stare! Oh, c'è un'altra, c'è un'altra! Dov'è la mia ascia? Au! Dove sta? Perché? Mi hanno rubato l'ascia! No! Non mi ha fatto male ancora! Niente, oh, è una tragedia, una tragedia! Tutto cattivone! Nell'altro posso ammazzarlo, però sta attento! Ok! Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! Perfetto! Ma qui non si può aprire! Ci sembra una chiave, un ascensore! Chi è? Ragazzi, io direi che possiamo continuare la prossima volta da qua! Noi ci becchiamo quindi domani con un prossimo video su Little Nightmares 2! E niente, alla prossima! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!